Sarà giornata nazionale di tutti i caduti in missioni di pace, quando i nostri eroi saranno riconosciuti tutti allo stesso modo. A dichiararlo è Vincenzo Frasca, fratello di Mario Frasca di Orta Nova, capolar maggiore e capo dell'esercito italiano, morto a 32 anni il 23 settembre del 2011 durante una missione di pace ad Erat in Afghanistan per un ostacolo posto al centro della carreggiata che causò il ribaltamento del veicolo Lynch su cui era a bordo con altri due commilitoni. L'appello ieri 12 novembre in occasione della legge del 2009, la 162, istituita in concomitanza dell'anniversario dell'attentato di Nassiria in cui persero la vita 19 connazionali, 17 militari e 2 civili, escludendo di fatto tutti i militari deceduti in tantissime missioni di pace. Vincenzo Frasca, che nel gennaio del 2012, anno dopo la morte del fratello, fondò un'associazione che oggi si occupa di portare avanti questa battaglia e non solo, cercando di far conoscere alle nuove generazioni il valore della pace e l'impegno di tutti i militari, lancia un appello al ministro della difesa Crosetto e al presidente del Consiglio Meloni. Vi chiedo di essere ricevuto per essere ascoltato. Già il 4 novembre del 2015, in occasione della festa delle Forze Armate, Frasca, durante l'evento a Quirinale, chiese per tutti i caduti la medaglia d'oro a valor militare. Attualmente l'iniziativa andrebbe a riconoscere tutti i militari che rientrano nella lista degli oltre 170 caduti delle missioni internazionali di pace all'estero. Per me sarà 12 novembre, continua Frasca, quando il governo lavorerà quella proposta di legge importante per tutti noi familiari delle vittime che da quel triste giorno abbiamo visto modificare le nostre vite.